Con Gerignola Democratica ieri domenica abbiamo comiziato sul tema lavoro, occupazione, lotta alla disoccupazione, mille occasioni di lavoro nei prossimi tre anni e ho detto che questa cifra noi la sapremo aumentare. Attenzione amici, non mille posti di lavoro promessi dal solito fanfarone politicante. Parliamo di mille occasioni che un'amministrazione sana, un'amministrazione competente, un'amministrazione onesta potrà creare per dare mille possibilità a mille nostri concittadini. Credetemi, lo abbiamo studiato, si può fare, insieme ce la faremo. Grazie a tutti.